Il 16 ottobre, insieme a CEFA, vieni in Piazza Maggiore e aiutaci a riempire il piatto vuoto. Rappresenta il simbolo delle disuguaglianze in Italia e nel mondo, il diritto negato a nutrirsi e a nutrire i propri figli. C'è bisogno dell'aiuto di tutti, e tutti possono fare qualcosa, per le menze di Bologna e per vincere la malnutrizione infantile in Etiopia. Solo insieme sconfiggeremo la fame, si può e dipende dalla solidarietà di ognuno di noi.